Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui su Spazio Verticale. Le migliori novità dal mondo dell'arampicata le potete trovare solamente qui, quindi iscrivetevi al nostro canale YouTube per rimanere sintonizzati con tutto ciò che accade nel mondo dell'arampicata in italiano. Guardate qui un po' che cos'ho. Oggi ho questa maglietta degli Steghisati, che è un gruppo Telegram, che ha aperto Stefano Ghisolfi. Se non ci siete ancora dentro, mandate un messaggio direct su Instagram a lui, che vi risponderà sicuramente e vi farà entrare in questo bellissimo gruppo. C'è un sacco di gente che scala, potete scambiarvi un po' di opinioni e conoscere dei posti dove andare e organizzarvi per fare delle gite assieme. Questa maglietta la potete comprare sul nostro shop, vi lascio il link qui sotto. E se fate un ordine maggiore di 90€, mettetela nel carrello e col codice Steghisati l'avrete in regalo. Nella puntata precedente vi avevo detto che questa puntata sarà dedicata all'allenamento di Stefano Ghisolfi nel suo box, in realtà dalla redazione mi dicono che devo far partire un altro video che è appunto quello del Frassassi Climbing Festival che si è tenuto lo scorso anno e appunto volevo dirvi che se quest'anno non sapete cosa fare il 7, l'8 e il 9 di settembre dovete assolutamente essere lì. A questo festival ci sarò anch'io, ci saranno anche moltissimi ospiti, andate sul sito, vi lascio il link qui sotto per vedere il programma dettagliato delle 3 giornate, io ora vi faccio vedere il video della scorsa edizione. Grazie a tutti! 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 Ciao a tutti ragazzi